Stefania Pedroni Il soggetto della foto è Stefania Pedroni, una donna adulta ritratta in uno studio in ospedale, su una sedia a rotelle elettrica. Stefania è inquadrata al centro della foto, a figura intera, a poca distanza dall'obiettivo. La sua figura è ruotata di tre quarti, così che la vediamo, oltre che davanti, prevalentemente sulla parte sinistra. Stefania tiene la testa leggermente inclinata verso la spalla sinistra, l'avambraccio destro posato su un tavolinetto trasparente di cui è dotata la sedia, posto davanti all'altezza della vita, mentre il braccio sinistro è poggiato sul bracciolo e con la mano impugna i comandi per muovere la sedia. Le gambe sono parallele e i piedi sugli appoggi. Stefania ha un viso tondo, incorniciato da lunghi capelli scuri lisci che le ricadono sul petto, occhi verdi e luminosi, un naso regolare e la bocca con labbra sottili che si apre in un sorriso largo e radioso. È in tenuta ospedaliera, costituita da pantaloni azzurri e una maglietta dello stesso colore, che sul taschino evidenzia un cartellino di riconoscimento. Sotto di essa spuntano le maniche lunghe di una maglia rosa. Porta anche una collana di piccole pietre intrecciate sui toni del grigio e del bianco. Ai piedi calza stivaletti neri. Dell'ambiente si vedono due pareti, una sulla destra per chi osserva e una alle spalle di Stefania. Quella a destra è quasi interamente occupata da scaffali pieni di faldoni colorati e porta documenti, mentre alla parete dietro la donna è addossata una lunga scrivania sopra la quale vi sono fogli, faldoni, un telefono e un computer. Al capo destro di questa scrivania è visibile anche una poltroncina blu vuota da ufficio. Il pavimento della stanza è di color giallo tenue, così come le pareti fino all'altezza di due metri circa, per poi diventare bianche. Sulla sinistra della parete, alle spalle di Stefania, si intravede una finestra con vetri opachi tenuti chiusi e sulla parte destra una tendina bianca tenuta scostata che ricade sulla scrivania sottostante. Sempre sulla parete di fondo vi è una foto d'epoca incorniciata, oltre che alcuni fogli appesi con le puntine. Le fonti di luce sono i tubi luminescenti, visibili sul soffitto della stanza, che illuminano la scena in modo diffuso e omogeneo, creando ombre solo sotto la scrivania e sotto la carrozzina di Stefania. Le tinte sono forti e chiare, e fra di esse dominano l'azzurro degli abiti, richiamate anche dallo stesso colore di alcuni faldoni dietro Stefania e il giallo di pareti e pavimento della stanza. Sono Stefania Pedroni, ho la distrofia muscolare dei cingoli che mi è stata diagnosticata all'età di dieci anni. Era la metà degli anni Ottanta e la comunicazione medico-paziente non era certa ai livelli di oggi. Per la mia famiglia il medico era un detentore della scienza, illuminato dalla conoscenza e dallo studio. C'era molta reverenza nei suoi confronti e il suo parere certo non si discuteva. Dall'altro canto anche il medico aveva un'immagine di sé e del proprio potere abbastanza spropositata, o meglio, questo era quello che io percepivo. Vivevo le imposizioni di certe cure o di certi esami parecchio invasivi come qualcosa che dovevo subire senza lamentarmi. Credo sia per questo motivo che per me il riscatto significa oggi stare dall'altra parte della scrivania, lavorare in ospedale e offrire ai pazienti un'accoglienza e un approccio alla cura che io non ho avuto. Il riscatto è anche permettere alle persone con disabilità o con malattia neuromuscolare di indossare il camice, aspetto per nulla scontato, e di offrire uno spazio di ascolto al paziente per permettergli di organizzare le informazioni, di elaborare le proprie emozioni e scegliere da protagonista il proprio percorso di cura trovando nel medico un alleato al proprio fianco. Stefania Pedroni nasce a Vignola, in provincia di Modena, nel 1976. Ha una distrofia muscolare dei cingoli diagnosticata all'età di 10 anni. Dopo la laurea in psicologia vive e lavora in uno studio privato a Zocca, un paesino sull'Appennino Modenese, come psicologa con specializzazione in psicoterapia cognitiva comportamentale. Dal 1 marzo 2018 si trasferisce a vivere a Milano per lavorare all'ospedale Niguarda, presso il centro clinico NEMO. Dal 2017 è vicepresidente nazionale dell'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare, in cui segue diversi progetti e si occupa di promuovere l'attenzione sugli aspetti psicologici, formativi e medico-scientifici nelle malattie neuromuscolari. Il riscatto, per Stefania, è indossare il camice e lavorare in ospedale, offrendo ai pazienti uno spazio di ascolto per elaborare le proprie emozioni e scegliere da protagonista il percorso di cura.